we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi quante novità nella patch 9.01 arrivata ieri mattina nel nostro fortnite una grande ventata di roba interessante la maggior parte non criptata relativa ovviamente alla nuova ltm di john wick quella che tutti stiamo aspettando e che probabilmente anche se nulla è ufficiale potrebbe arrivare direttamente oggi data di uscita del film ufficiale di john quindi nel video di oggi ragazzi ne parleremo davvero tantissimo sappiamo tutto ragazzi come funziona in che modo i premi cosa succede la skin di john wick ragazzi ve ne dirò delle belle tra l'altro notiziona incredibile un backpack gratis per tutti tanta tanta roba colgo l'occasione un secondo per dirvi ragazzi non attivate il 2 fa adesso l'autenticazione a due fattori di cui abbiamo parlato nel video di ieri mattina aspettate che epic games lasci la notizia ufficiale in modo da riscattare i vostri 10 dollari di bonus in 1000 vbucks mi raccomando eh non l'avete fatto fino adesso chi non l'ha ancora fatto non lo faccia e poi una skin segreta nei file di gioco è presente una skin molto molto particolare se c'è del tempo ve la voglio far vedere ma prima ragazzi voglio ringraziare tutti coloro che utilizzano il mio codice creator xiu derone grazie di cuore per supportarmi nello shop quando scioppazzate di prepotenza non dimenticatevi di iscrivervi al canale e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima la domandina ve la devo fare ragazzi è una domanda che potete già intuire voglio sapere la vostra opinione ragazzi come ti sembra il nuovo fucile vorrei fare una premessa innanzitutto hanno fatto una cosa che non dovevano fare non puoi togliermi il p90 per sta cagata non lo puoi fare non lo puoi fare hanno avuto il coraggio di togliere il p90 ragazzi io non ci potevo credere e in secondo luogo mi spieghi mi spieghi perché fai un fucile col mirino se poi il mirino non mi serve cos'è di estetica adesso si sono messo a fare la roba d'estetica ragazzi io sono rimasto un po basito l'arma in sé ci può anche stare velocissima sparare velocissima ricaricare fa un cazzo di danno però va bene nel senso non lo so no per me no per me no voglio sapere ragazzi invece cosa ne dite voi mi raccomando qua sotto nei commenti che ci tengo un casino ma quindi ciancio alle bande e oh porca puttana un momento e c'ho le impostazioni nuove non riesco e vando alle ciance andiamo subito subito a vederlo eccolo qua ragazzi skin del john ce l'abbia si è proprio skin ufficiale in game ragazzi eccolo qua meraviglioso sebbene tutti quelli che hanno giocato la season 3 avevano già il mietitore se avessero raggiunto il livello 80 del pass battaglia ecco qua il suo degno cugino ragazzi john wick è davvero uguale a chiano rives nel senso si vede benissimo i tratti somatici sono esattamente i suoi sappiamo ragazzi che la skin sarà acquistabile nello shop 2000 vbucks ragazzi una skin leggendaria vi voglio già anticipare che non è obbligatorio shoppare la skin per giocare la nuova modalità quindi non abbiate paura ragazzi anche se non avete o non volete comprarla potrete ugualmente giocare alla nuova modalità la skin è molto interessante perché ragazzi la vediamo in game eccola qua in realtà il classico john ha uno stile personalizzato purtroppo ho un'immagine un po sfocata perché non c'è nulla di meglio in giro ma eccolo qua ed è veramente meraviglioso tanta tanta roba per la fase barbonazza di john in realtà è reduce da probabilmente un combattimento si è pigliato due pallottole e lo vedo fresco più o meno come una rosa quindi skin leggendaria con due stili personalizzati tutti i fan io penso che la avrò nel senso cioè la voglio nel senso tutti i fan di chiano ovviamente non hanno di che preoccuparsi potranno tranquillamente prenderla ma per quello che riguarda invece ragazzi la nuova ltm cominciamo a fare un po la le cose in chiaro innanzitutto news ufficiale in game presto disponibile tik tok mister week come vedete ragazzi vi avevo già mostrato nel video di ieri lo sfondo ed è proprio quello che state vedendo nella notizia ufficiale di epic c'è una cila in mezzo cos'è quella c ma è molto semplice ragazzi è la c dell'hotel continental presente nella nuova neo inclinata quindi la nuova pinnacoli pendenti come vedete ragazzi all'esterno dell'hotel di un edificio è presente la c quella che avete appena visto e probabilmente l'ambientazione partirà o sarà comunque relativa a questo hotel che io credo non ho visto john wick se devo dirvi la verità quindi potrebbe esserci un collegamento che io non conosco quindi chiedo scusa per la mia ignoranza in ambito di questo film ma ragazzi abbiamo la descrizione della modalità che dice stay alive and collect golden tokens by eliminating the other bounty hunters quindi sopravvivi collezionando i gettoni d'oro eliminando gli altri concorrenti the first thing to reach the required token counts wins but be careful how far ahead you get allora il primo team si gioca innanzitutto in tre modalità e si può giocare in solo si può giocare in duo si può giocare in team forse i golden coin saranno solo in team non lo so ragazzi però dice il primo team che raggiungerà il numero richiesto di gettoni vincerà la partita è una rivisitazione un po' della modalità fuga ragazzi solo con i gettoni ci sta comunque ci sta un sacco faranno sarà molto visibile in mappa il token leaders che sarebbe il giocatore che ha più gettoni quindi attenzione perché sarete visti da tutti gli avversari in mappa e termina la descrizione dicendo the high table has opened a new contract you are out but not unstoppable if you are eliminated three times you are out of course allora il tavolo il grande tavolo è aperto a un nuovo contratto attenzione perché tu potrai essere forte quanto vuoi ma se sei eliminato tre volte hai perso la partita quindi qua invece va a riprendere un po' la modalità aviazione reale che aveva tre possibilità di sopravvivenza quindi ragazzi una modalità che promette davvero tantissimo una modalità che avrà anche dei regali super interessanti e il primo è proprio quello di cui vi parlavo backpack gratuito per tutti ragazzi un bellissimo zaino a forma di moneta d'oro ve lo faccio vedere dopo questa immagine in alta definizione che verrà regalato a tutti quelli che completeranno cinque sfide della ltm ma i regali non sono finiti se vinceremo un match nella wix bounty verrà regalato un ombrello tanta tanta roba e se invece giocheremo cinque partite ci verrà regalata la skin relativa alla modalità per il resto ragazzi sono solo punti esperienza eccolo qua intanto lo vediamo molto più in alta definizione questo è il backpack si chiama gold token quindi molto classico ens causa sui penso che voglia dire si la causa di te stesso cioè le tue azioni sono la causa di te stesso una roba io non parlo latino però immagino voglia dire una cosa del genere noi sbatte chiglioni la cosa bella in realtà è il backpack e tra l'altro quello che vi dicevo poco fa è confermato in queste due stringhe di codice che ci fanno vedere che umbrella assassin la prima riga vuol dire che vinceremo un deltaplano un ombrello in realtà penso è però potrebbe essere anche un deltaplano vincendo una partita e la seconda è rap rap che vuol dire ragazzi skin per armi e veicoli relativa alla modalità john wick purtroppo non ho modo di farvi vedere la skin segreta ma ho gli ultimi secondi per farvi vedere la skin in game questa è la versione normale e questa invece è la versione numero due io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 13 in live ciao